Sopravvissuti, bentornati sul canale. Allora, mi avevate consigliato nei commenti, un po' di giorni fa, un titolo, anzi no nei commenti, in un... chiedilo a Guardianon, mi avete scritto di Blight Survival, che tra l'altro avevo scambiato erroneamente con un altro gioco, Blight appunto, ma questo sembrerebbe essere veramente tanta tanta roba. Allora, è uscito 7-8 giorni fa, il teaser del gameplay, il trailer del gameplay fondamentalmente non si sa tantissimo, ma le poche notizie che ci stanno ragazzi, tanta roba, veramente tanta tanta roba. Allora, non è un survival nudo e crudo, non è un survival, fondamentalmente è più un action, un survival horror action, diciamo che è un po' un mix tra Dark Souls e The Last of Us, perlomeno sul web così l'hanno definito, quindi secondo me potrebbero non avere tutti i torti. Ma andiamo a vedere insieme il gameplay. E quello che si sa ragazzi è che appunto è un survival horror ambientato nell'Europa del XIV secolo, anche se è un'Europa del XIV secolo alternativa, dove due fazioni si scontrano. Noi potremmo scegliere se stare, cioè noi sceglieremo, o perlomeno ci schiereremo con l'una o con l'altra fazione, non so, non sappiamo se questa scelta sarà nostra, cioè se possiamo scegliere quale delle due fazioni, diciamo, aiutare. Ok? Però sembra appunto essere tanta roba. C'è una piaga al Blight, che è sto virus demoniaco, sembrerebbe, che praticamente tramite il sangue degli infetti fa tornare, cioè il sangue, scusate, dei morti, fa risvegliare i morti appunto sotto forma di zombie, di non morti, che dovremo passarci a fil di spada e non solo, perché le armi saranno molteplici. Allora, io direi di partire e consideriamo che questo è il primo gioco dello studio di sviluppo, che è lo studio Ainir. Non l'avevo mai sentito e questo è il loro primo gioco e, sinceramente, ragazzi, fa ben sperare. Ma andiamo a vedere insieme il gameplay e lo analizziamo un pochino, dai. Graficamente, ce sta, eh. Ce sta veramente. Allora. Allora, in basso a sinistra, sull'HD, non muovo il mouse, se no faccio salta tutto YouTube, su... in basso a sinistra c'è la stamina e la vita, sotto penso siano monete, 321, e a sinistra c'è un sole. Quindi presumo ci sia un ciclo giorno-notte. Ok. Ci dovrebbe essere una sorta di crafting abbozzato. Combattimento... figo. Ce sta. Ha perso vita? Scusate un secondo. Ah, non voglio far troppi salti, saltelli... No. Pensavo avesse perso vita, invece no. Bello, 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 mi piace, mi piace. Molto action, ce sta. Eh, la... la campagna dovrebbe essere... Oh, sta minendo, perciò che è un piacere. La campagna dovrebbe essere giocabile in... fino al massimo di quattro persone in cooperativa. Mmm, sta cosa non mi fa... C'ho delle remore per la co-op. Però ne parliamo dopo, semmai. Al volo proprio. Dicevo, l'esplorazione e il loot sono fondamentali. Anche per la progressione del personaggio, perché... Da quello che hanno detto gli sviluppatori, c'è... Dovrebbe esserci, perlomeno, il permadeth. Ma penso che non sia un reset delle... Dei progressi, ma più che altro magari del nostro personaggio, abilità e quant'altro. Ah, dovrebbe arrivare... Allora, arriverà prima su PC, ma... Gli sviluppatori dicono che vorrebbero portarlo anche su console. Ovviamente solo next gen. Sia Xbox che Playstation. Allora, quelli penso siano soldati rivali, quindi presumo che i nemici non saranno solamente non morti. Non credo sia completamente open world il titolo, eh. Dovrebbe anche essere elementi procedurali nelle mappe. De che genere non saprei. Bello. L'ambientazione è estremamente evocativa, raga. Ripeto, non è un survival, ma è a tema zombie. E quindi sul canale non può mancare quando uscirà. Non credo l'anno prossimo, però. Non lo so. Magari fosse... Bella l'uccisione stealth, mi piace. Mi piace. Ok. Allora, non ho visto... Ok, altra arma. Possiamo cambiare arma. Non ho visto nessun... Indicatore che fa capire che cosa è possibile luttare e che cosa no. Bello l'arco. C'è l'handshot. Oh, bella la ruota rapida dell'inventario. Mi piace. Che belli i particellari, raga. Guardate che occlusione ambientale. Ok, possiamo... Chiamare soldati... Guidati dall'IA, anche, con noi. Quindi, come ho detto, non siamo costretti, ma volendo possiamo anche giocare in co-op. Raga, poi, magari, andatevelo a rivedere il gameplay, perché... A parte, vabbè, sta a 1080, però ogni tanto sgrana un po', ma non ci sta. Allora, sti funghi, l'abbiamo visti anche prima. No, varia scoperta. Fai un'offerta. Forse lì possiamo salire livello. Tipo i falò. O le grazie di The Elder Ring e Dark Souls. Possibile. Molto probabile. E qua finisce il video. Blight. Beh, raga. Ci sta... Ci sta tanta roba. Tanta roba. Allora, graficamente sembra veramente... Bello. Bello. Il fatto che sia il loro primo gioco mi fa un po' trema, perché poi... Toccherà vedere... Padda la mano. Comunque, provando il titolo, se sarà solido... Se sarà fatto bene... Se sarà scriptato. Perché così pure il combattimento sembra molto interessante. Però... Eh. Toccherà vedere... Sarà un combattimento action? O ci sarà il free flow alla Batman, Spider-Man? Non sembra, però, eh. Però... È presto. Allora, volevo vedere una cosa. Volevo vedere una cosa. Che ho visto prima. Dove stava? Il menu radiale... Molto carino. Eccolo qua. Allora... Short sword. Quindi la spada... Corta spada, insomma. Quindi la spada da fianco. L'arco. E il pugnale. E c'è un quarto slot. Secondo me... Abbiamo un'arma stealth. Un'arma dalla distanza. Un'arma veloce. Ma anche all'arma pesante. Asce. Spadoni. Quindi, secondo me, qui... Ci sarà la quarta arma che va sulla schiena. E sarà un'arma pesante, secondo me. Chissà se possiamo modificare anche l'armatura. Magari sì. Magari sì. Guarda, è bella l'animazione come si mette l'arco a posto. Guardate. Opla. Molto figo. Molto figo. Ragazzi, non c'è tanto da dire. Quindi non voglio neanche dilungarmi troppo nel video. Però... Io ho preso qualche appunto. E... Fondamentalmente è quello che ho già detto. E... Interessante. Molto interessante. Quindi un action survival forse. Non lo so. Vedremo. Non credo più di tanto, ma vedremo. Ma è il più survival horror che è survival stretto proprio nudo e crudo. Ma... Molto interessante. Spero che ci sia una storia gradevole. E soprattutto che il gameplay sia divertente. Quando ho detto del multiplayer che ho le mie remore è perché... Diciamo che coi giochi, specialmente quelli a tema... O che sfociano nel survival zombie o cose così... Il multiplayer, a parte Left 4 Dead, non è mai stato particolarmente brillante. Secondo me. E la deriva alla Left 4 Dead non la vorrei per un gioco come questo qua. Spero che ci sia una campagna. La storia non serve neanche secondo me che sia esageratamente innovativa o... Una storia bella, tranquilla, modesta, ok? Accompagnata da un gameplay divertente. Ecco, mi aspetto un qualcosa del genere. Mi aspetto sinceramente un qualcosa del genere. Anche perché non penso che il nostro personaggio sarà particolarmente caratterizzato. Poi non lo so. Però, visto così, sembra molto molto anonimo. Quindi potremmo essere uno dei tanti soldati. Per questo ho detto il Permadeth forse sarà più incentrato sulla morte del nostro personaggio. La perdita di, non so, abilità ed equipaggiamento. Piuttosto che la perdita di progressi della storia. Anche se però quello che ho appena detto mi fa pensare che forse invece... Il gioco potrebbe essere incentrato più su scenari, su campagne, più campagne appunto come Left 4 Dead per esempio. Però sono congetture fondamentalmente. Il fatto che qui ci sia, ripeto, il sole. Che tra l'altro... Ah, guardate, guardate, guardate. Guardate quanto è alto qui. E guardate invece... No, aspettate... Qui. Qui è molto più basso. Allora, qui è molto più alto. E qua è molto più basso. Quindi c'è il ciclo giorno-notte. Non lo so. Cioè, sì, il ciclo giorno-notte probabilmente sì. So curioso. So veramente curioso, ragazzuoli. Lo continueremo a tenere d'occhio. Blight, Medieval, Survival o Blight, Survival solamente. Andate a cercare pure voi, andate a vedere il video. A parte, beh, c'è solo questo. So curioso. So molto curioso. Lo vedremo il prossimo anno? Non saprei. Spero di sì. Perché il prossimo anno escono parecchie cose. E poi uscirà un video a breve al riguardo. Spero vivamente di poterlo giocare il prossimo anno. Ovviamente questo qua, ragazzi. Sul canale ci arriva di sicuro. Ragazzuoli, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Mi raccomando, vi aspetto. Commentate, condividete, mettete mi piace. E noi ci vediamo alla prossima, ragazzuoli. Fatemi sapere cosa ne pensate e lo terremo d'occhio. Alla prossima. Buona sorpresa a tutti. Ciao.